Un'accoglienza incredibile. Questa è stata la prima dichiarazione di Yasmin Repesa, nuovo head coach della Trapani Shark che si è presentato a sorpresa sabato scorso nella conferenza stampa di lancio della nuova stagione. Il tecnico ha parlato di quella che dovrà essere la mentalità della squadra e di quanto sarà importante il supporto del pubblico nelle partite di casa. Le emozioni sono veramente in questo momento incredibili. Noi dobbiamo costruire la squadra a modo giusto, senza fare errori, partire dalle persone giuste, giocatori giusti, giocatori che ci servono, che possono giocare insieme, uno stile di gioco riconosciuto, uno stile di gioco che produce bel basket, produce buon risultato. Queste sono idee per come partire e che cosa fare. Dopo la costruzione di squadra dobbiamo fare un buon ritiro. Partiamo il 12 agosto con visite mediche due o tre giorni prima di ferragosto. Dopo ferragosto si parte con lavoro in palestra. Il 21 andiamo a Bormio a fare il ritiro e a costruire il sistema di gioco per vedere a che cosa possiamo fare e come dobbiamo giocare. Dopo arrivano partite amiche, torneia per giocare partite amichevole. Questi sono programmi e queste sono idee che dobbiamo fare. Contemporaneamente le due società hanno lanciato anche le nuove campagne abbonamenti. Non ci basta per il calcio e io continuo a crederci per il basket. Le parole del presidente Valerio Antonini. Dal 16 luglio sarà possibile per tutti sottoscrivere gli abbonamenti per il calcio e il basket. che si inizierà con una prelazione per chi aveva l'abbonamento ovviamente lo scorzionario. Ed è stata danno soprattutto la possibilità di radizzare in 10 comoderate senza interessi a partire dal frentesimo giorno di sottoscrizione dell'abbonamento. Qualcosa di unico in Italia che viene in conto un po' alle esigenze della tiposeria. Credo che sia la dimostrazione di quanto noi ci teniamo a fare le cose al massimo all'interesse della comunità. E adesso si comincia a fare sul serio. Manca poco al via delle due stagioni, calcio e basket. Quali sono gli obiettivi delle due squadre? Vincere. Noi dobbiamo fare un campionato di serie C a vincere per andare in serie B. Abbiamo costruito una squadra fortissima. Mancano due o tre giocatori che abbiamo già identificato ma che vogliamo aspettare prima di definire perché vogliamo renderci conto di quello che abbiamo in mano oggi. Per il basket abbiamo preso un coach straordinario. Abbiamo mantenuto Andrea come secondo perché dà l'idea che abbiamo in panchina qualche cosa che in Italia non ha nessuno. Abbiamo già otto dei dodici giocatori tra due acquisti e sei confermati. I prossimi quattro colpi o tre se decideremo di mantenere GD saranno comunque colpi molto importanti che renderanno Trapani Shark pronta ai nastri di partenza come una delle protagoniste che cambieranno. Per maggiori informazioni sulle campagne abbonamenti è possibile consultare il sito